Cinque condanne e cinque assoluzioni sono le richieste del Pubblico Ministero Franco Massimo Bonfiglio nel processo occorrito abbreviato, nato dall'inchiesta sui parcheggiatori abusivi e su presunte cancellazioni irregolari di multe che ha portato tra l'altro all'arresto di un ispettore della Polizia Municipale di Firenze e di un funzionario della SAS, la società interamente partecipata dal Comune, incaricata della gestione e del controllo della sosta a pagamento. Le posizioni di altri due imputati, tra cui quella dell'ispettore della Municipale, saranno discusse nel corso della prossima udienza. La pena più alta, tre anni e due mesi di reclusione, è stata chiesta per il funzionario della SAS, Nicola Raimondo, finito in manette nel corso dell'inchiesta, accusato di abuso d'ufficio e corruzione. Sempre per Raimondo è stata chiesta l'assoluzione dei reati di traffico di influenze e corruzione elettorale. Chiesta l'assoluzione, per non aver commesso il fatto, per Paolo Becattini, ex ispettore della Municipale, attualmente responsabile della Segreteria del Presidente della Regione Toscana, Eugenio Gianni, e all'epoca dei fatti contestati, capo di gabinetto del Presidente del Consiglio regionale.